Vado avanti così terminiamo questa parte sulle libere utilizzazioni e eccezioni, l'ultima che volevo farvi vedere, ce ne sono altre molto interessanti, però quelle che riguardano le biblioteche sono queste e questa vi riguarda in particolare e il comma 71 ter dice che è libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui a scopo di ricerca o di attività privata di studio su terminali e eventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico. Degli istituti di istruzione nei musei e negli archivi limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione di licenza. Calma tutti, fermo subito le domande, faccio io dei commenti e poi li attiviamo alla fine. Questa indirettamente si collega per i concetti che tratta con quanto abbiamo detto poco fa a proposito del comma 3 dell'articolo 68 sul cosiddetto document delivery. Qua si occupa di un'altra cosa non tanto della riproduzione, scansione, stampa però vedete che parla di terminali aventi tale unica funzione cioè quei terminali che sono situati all'interno delle biblioteche accessibili al pubblico su cui gli utenti possono andare a consultare opere digitalizzate. Che però deve essere, sono l'opere limitatamente, guardate, a opere o materiali che sono contenuti nelle collezioni e che non sono soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione di licenza. Quindi non potete metterci su questi terminali, non potete metterci le opere che trovate nelle vostre banche dati che avete acquisito con accordi contrattuali, atti di cessione di licenza dai service provider, dalle case editrici, dai fornitori di banche dati in abbonamento. Ma dovete metterci al massimo opere che avete digitalizzato voi, che avete in archivio, che avete in catalogo, che avete digitalizzato voi e che preferite far fruire invece che attraverso il contatto fisico, attraverso un terminale. Che però deve essere destinato a tale unica funzione, quindi non deve essere un computer che permette ad esempio di accedere a internet e ai social, ma deve essere un computer, passatemi il termine, stupido, cioè inibito in buona parte le sue funzioni e impostato solo per consultare questo tipo di materiali. Ok, non so se ce li abbiate, non so se si usi ancora questa cosa, anche qui è una norma che risale alla metà degli anni 2000, queste sono un comma 71 ter, quindi non sono del 2003, sono leggermente posteriori. Però ecco, vedete come sottolinea che non devono essere soggetti a vincoli derivanti da dati, se sono da licenza, quindi non rientrano mai le banche dati che noi abbiamo, noi biblioteca abbiamo sottoscritto con una casa editrice, con dei provider di banche dati in abbonamento, ma al massimo atti, documenti che abbiamo digitalizzato noi.